Abbiamo fatto una visita questa sera dall'ambasciatore della Repubblica Italiana al Cairo, abbiamo ricordato insieme il meeting del Cairo del 2010, un grande evento che abbiamo ricordato insieme e che speriamo di poter ripetere nei prossimi anni, perché è stato anche questo momento dove il meeting ha reso presente al mondo la possibilità di mettere insieme attorno a un tavolo persone che altrimenti in altri luoghi fanno molta fatica a parlarsi. Abbiamo ricordato anche la presentazione del meeting del 2018 al Cairo e quindi c'è una tradizione nelle relazioni fra il meeting e l'Egitto che speriamo possa essere rivivificata e rilanciata attraverso la mostra della prossima edizione e che sarà quindi un momento molto importante e significativo per il meeting stesso e per la sua missione di pace in un mondo sempre più attraversato da guerre e da conflitti.